Abbiamo fatto una discreta partita, forse si può fare meglio perché in casa sicuramente dobbiamo giocare per vincere però comunque di fronte ci sono anche gli avversari che hanno fatto una partita abbastanza maschia infatti ci sono stati 3 o 4 ammoniti da parte loro, però questa è la categoria abbiamo sofferto solo sul palle da fermo, non ricordo azioni degne del pomigliano non hanno mai tirato in porta, quindi abbiamo avuto noi nel secondo tempo due o tre occasioni dove forse se la riusciamo a pareggiare prima può darsi pure che cambia l'indirizzo della partita però questo adesso è il potenziale del Manfredone, quindi nessuno deve fare voli pindarici ci prendiamo sicuramente questo punto da un lato positivo perché i ragazzi hanno dato il massimo fino a oltre il novantesimo e la qualità della squadra oggi mi riallaccia ad un discorso, io sono da 50 giorni a Manfredonia sono arrivati grazie a me che ho messo la faccia 15-16 giocatori nuovi perché quando siamo arrivati forse erano presenti 3-4 giocatori, il resto erano tutti ragazzini messi lì in mezzo al campo quindi come Vitaglione ci ha messo la faccia mi auguro che da domani anche gli altri mettino la faccia ci possano far fare quello che si deve fare per salvare il Manfredone perché le sfide a me piacciono però se altri non vengono e intervengono qua diventa fare un miracolo per i miracoli mi devo ancora attrezzare quindi non voglio responsabilità più grandi quindi perciò non voglio condannare i ragazzi perché il potenziale del Manfredone è questo se poi qualcuno pensa che oggi il Manfredone doveva vincere 3-0 col Pomigliano forse proprio sulla strada sbagliata perché il Manfredone dal Cerignola in poi perché noi le prime quattro partite le abbiamo regalate completamente perché la squadra era al 30% della condizione quindi 30 contro 80-90, penso che sia una sfida impari però dal Cerignola è incominciato il campionato del Manfredone quindi queste tre partite la squadra ha lottato alla pari con chiunque ha affrontato poi si vince, si pareggia, si perde questi poi sono a volte anche gli episodi perché oggi due gol semplici li abbiamo sbagliati forse abbiamo fatto quello più difficile però ritengo doveroso per il rispetto che ho per Manfredone e per il rispetto che si deve avere per questa tifoseria che mi auguro che dalla settimana prossima i dirigenti facciano i dirigenti perché altrimenti, ripeto, non diventa una sfida, diventa un miracolo e i miracoli non si possono fare per mantenere quelli che abbiamo e per integrare qualcosina perché penso che non ci vuole Vitaglione per dire che questa squadra ha bisogno di qualche piccola cosa perché il grosso è stato fatto però se noi partiamo dal 28 di agosto che abbiamo quattro giocatori ma le rose delle squadre sono 22-23 Direttore, per cosa sta cercando se le danno la possibilità di... Noi, il terzino sinistro è un centrocampista se poi mi facessero prendere un altro attaccante sarebbe l'ideale però non voglio chiedere troppo voglio che questa squadra venga integrata con un terzino sinistro con un centrocampista e vengano risolti i problemi quotidiani che il Manfredone ha perché io credo che uno alla fine al termine del campionato ce la giochiamo, può darsi pure che si retrocede per l'amor di Dio, però si retrocede con onore si retrocede che abbiamo accettato tutti la sfida ma da solo Vitaglione oppure da solo la squadra noi non possiamo fare niente perché le società di calcio ci sono le varie componenti e ognuno deve fare il suo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille